La società Coingas, in collaborazione con lo studio Rason di Firenze, che ormai collabora da tempo, ha sottoscritto un'importante e significativa convenzione con la società Prontostrade del gruppo ACI Global, al fine di assicurare il ritorno a una regolare e sicura circolazione dei veicoli a seguito di incidenti stradali. L'accordo ovviamente garantisce a tutti i comuni soci la massima efficienza e la rapida messa in sicurezza dell'area, interessato ovviamente dall'incidente, ovvero il ripristino di tutte le condizioni di sicurezza, come la bonifica dei detriti sia liquidi che solidi, che si sono rivezzati sul manzo stradale. Il servizio è immediato, ovviamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed è totalmente gratuito per i comuni soci di Coingas. La società Prontostrade del gruppo ACI effettua questo servizio garantendo agli utenti della strada un'avvenuta ripristino del manto stradale, quindi permettiamo la sicurezza per gli utenti della strada che si trovano a passare poi su eventuali detriti non raccolti e lasciati quindi sulla sede stradale. Il servizio viene attivato attraverso un numero verde che in automatico viene contattato dalle amministrazioni locali, quindi dal comando dei vigili locali e a questo punto parte la chiamata ai nostri centri delegati, i nostri centri delegati ACI Global che intervengono sulla strada. Fanno un intervento naturalmente di ripristino nei tempi più immediati possibili come previsti anche dalla Convenzione e raccolgono tutti quanti i detriti, quindi a questo punto poi eseguono tutte le procedure di smaltimento in base al codice ambientale e ridanno il grip di aderenza iniziale originale al manto stradale. È un servizio gratuito per il comune e quindi non intacca il costo direttamente del comune ma si rifà alle assicurazioni di chi ha commesso l'incidente, quindi il danno di chi ha prodotto l'inquinamento in terra. L'ultima cosa che voglio precisare è che è una convenzione dove non c'è esclusività nel senso che il servizio può essere reso anche da altri operatori.